Musica Buonasera amici telespettatori e benvenuti qui su SKTV per seguire l'ultimo big match in ordine cronologico di questa seconda giornata del Super 8 che vede affrontarci lo Sporting Raya a bella Napoli alla vostra sinistra ecco lo scambio di strette di mano tra calciatore ed arbitro prima del tocco dunque vedrà inizio al match la bella Napoli che attacca la sinistra verso destra delle vostre teleschermi ci vediamo a P.E.L.A. ciao ragazzi ciao 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 ciao